Buongiorno a tutti, mi chiamo Simona Nava, sono un medico chirurgo, specialista in ginecologia ed ostetricia e da qualche anno a questa parte mi sono davvero appassionata allo studio dell'epigenetica, soprattutto in quello che sono i giorni più importanti per la nostra capacità poi durante tutto l'arco della vita di sviluppare adattabilità a insulti, a stressori, a infezioni, cioè i primi mille giorni di vita, ovvero dal concepimento al compimento dei due anni di vita. L'inizio di questi mille giorni di vita si tratta del concepimento, cioè della fusione di due cellule, cioè la cellula uovo e lo spermatozoo e quanto più sane sono queste due cellule, tanto più l'avvio della vita e lo sviluppo, la programmazione fetale, lo sviluppo neurologico del bambino e le sue competenze anche nell'ambito dell'apprendimento saranno migliori. Ovviamente da ginecologa mi occupo di più della cellula uovo, anche perché vi ricordo una cosa, è la cellula uovo che apporta all'individuo per tutto il resto della vita gli organelli citoplasmatici più importanti per la capacità di produrre energia che sono i mitocondri, ok? Quindi i mitocondri che noi abbiamo in tutto il nostro corpo sono di derivazione materna, da quella prima cellula che è la cellula uovo. Ora io ho davvero una grande dedizione affinché questa cellula sia fatta, nutrita e soprattutto ossigenata e idratata nel migliore dei modi, perché se noi ricordiamo questi tre elementi, nutrizione sana, idratazione, possibilmente con acqua sana, energizzata, strutturata, non confezionata nella plastica per i vari anche problemi di inquinamento con phtalati e bisfenolo, ma soprattutto l'ossigenazione, c'è una cellula ossigenata che ha dei mitocondri sani dall'addito a un avvio della vita eccellente. Ed è per questo che ho grande attenzione a dare dei buoni integratori alle mie pazienti, perché soprattutto nella fase preconcezionale producano degli ovociti ben ossigenati. Uno di questi è il self-food, che è davvero una formula eccellente che apporta una salute mitocondriale e un'ossigenazione a tutto il resto della cellula. È assolutamente naturale e, come quelli che mi conoscono sanno, io sono assolutamente molto attenta agli eccipienti, perché a volte noi diamo degli integratori che, ok, hanno dei buoni principi attivi, ma poi sono pieni di eccipienti tossici, dei coloranti tossici. Self-food è in gocce ed è formulato in acqua strutturata ed è davvero un'ottima formulazione nel periodo periconcezionale o anche durante la gravidanza. Io lo raccomando.